Ciò è una sistemadina pa' stasera, eh? Serata particolare, eh? Eh, sì, ciò. Gaviamo a cena l'onorevole con sua moglie e gaviamo da parlare delle cose molto importanti. C'è case chiuse. Speriamo che gli avversi perché anche se tanta gente che cerca a casa e non li trova. A me sembra normale una moglie così. Ma secondo voi altri, che buona vita faccia con lei? No, fiammela che mi sveglia tutte le mattine in 5 e mezza. Che io? Io non penso a mia fare la mappa a me. E a me che si organizza tutto il lavoro da fare poi il giorno dopo. Doverissimo spianchezzare la sana e il tineo e cambiare la tenda della cucina. Ecco. Siccome che io conosco, io volevo dire ti domani devi spianchezzare la sana così per cambiare la tenda del tineo e se ti resta anche il tempo cambiare tutti i mobili da casa. Signore. Signore. A te ringrazio, signore. A te che è la donna. A te che hai fatto a me. A te devi dare il gesto, i modi, il garbo, l'intuito femminile. Ma già era proprio necessario trasformarla in moglie. Questa è la mia mamma. Se smettere sempre i cavi. Non basta una volta. No. Due, tre, quattro. Sono mia sordi. Devi indomata. Devi indomata. Sette cose che succedono. Non bisogna che succeda. Ma scusa, mamma. Tasi. Ma anche se è meglio. Ma se è successo non si può tornare in Drio. Certo. Che razza di notizia. Non sarei mai spettata una roba del genere. Generalmente nessuno sospetta. Ma guarda il caso. Succede. Ma per rendito conto che te hai 23 anni. E ora non sei via a fine del mondo. Mi mi sposi in apri e a maggio arriva il putteo. Ma che razza di ragionamento di feto ha? Non te riconoscio più, non te riconoscio. Ma ti sei troppo parlare come se colpevo e fossi me. Ti sei più che ti sei incinta, no, mi? Beh, beh, non ho fatto tanto colpare il putteo. No, 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 eh. Noi fanno cosa mia colpa mia se sei incinta. Diciamo che tu te senti responsabile. Ma nianca. Mi sono una vittima, che tu capis? Vittima, no, colpevole. Ecco, ti sei vittima. E papà è colpevole. Se invece incinta fosse me sarei mia colpevole, vero? Ma te non ti vuoi essere incinta perché sei ancora volosa, che tu capis? Sono lì che sei vittima di un colpevole. È il carnetto. Non pare. È il carnetto, c'è male. Ma se sei lui, vero? Sì, sì. E lui è responsabile di tutto. Perché mi ha sempre detto. Rina, ricordati che sono vigile su tutto. Sì, sì. Nesta vigile su tutto, sì. Ma... Su qui o no, però... Chiunque che sia non dicevo niente, eh. Mi raccomando. Prima o dopo io sarò. Ma è meglio dopo, intanto. Sss, muta, muta. E fra un par de mesi se ne darà. Oh, ciao, ciao. Vieni, vieni. Mamma, sei qua e siete. Detta, che e sei qua e siete. Cabello Savo. Cabello Savo. Cabello Savo. Cabello Savo. E sabo di chi? Que cosa? Perché hai bisogno proprio che mi conti. Per che, adesso le conti. Adesso mi conti rinchiate. Il paese non se parla di altro, la gente mormora. La gente mormora. La gente mormora. Il paese mormora. La gente mormora. La gente mormora. Un passaparola che non è posto il teografo e dice come mai è così quieta, così devota, a sua età. Che tu senti io, se sa, sa tutto, se sa, tutto, tutto, se sa, tutto. La gente mormora al paese, mormora. Tutti che mormorano. Ma che vuoi capire che è un mormorio di Versailles? Un discorso che promuove l'emancipazione femminile. Detto tra me e lei, in confidenza, sono sicuro che il suo marito con la sua capacità espressiva, con la sua padronanza linguistica e con la passione politica che lo contraddistingue ha tutte le carte di regola per poter sedere. Domani, in Parlamento. Eh? Cosa? Ah, un po' ingenio. No, no, no. Ti vedi che non mi ha capito tanto bene. Vada fuori. Allora, un po' incinta. Ah, e ti com'è fatto a sapere? Ah, dire la verità, sono stato il primo salto. Ah, si ho così in confidenza, sì. Una scianta. Un po' incinta. Più una scianta in confidenza. Facendo il totale, ti sei stato tì. E non sta a dirmi una scianta perché te che l'ha fatto, che basta, eh. Ma non potrei mai pensare che prima, torre, precauzione, adesso cosa pensiamo di fare, adesso? Papà, 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 la risposta a volta. Prima, come quello che l'ho fatto, te lo sai. Sì, sì, sì. Secondo, se non state attenti, cento volte. Eh? Ma centunesima... Sì. Sì. Terzo, abbiamo tolto tutte le precauzioni, ma centunesima... Sì. Sì. Sì, sì, sì. Eh? Oh, Dio! Oh, Dio! Che tia, Rina non c'entra niente, ma è par pochetto, eh. Ma guarda che Gigi, potremmo tirare su come sta sorella, eh. Capisci che non abbiamo mia mandata al sole, manchiamo stesso sangue, bene bene, eh. Alberto, sì, chiedi che ti fassi sti ragionamenti. Sì, successo. E tia, cia, picco, Gigi, che non c'entra niente. Tia, cia, picco, Gigi, che non c'entra niente, tia, cia, picco, Gigi, che non c'entra niente. È lesbicia, è che mi ha segnato a piole a Portinara, che non c'entra niente. Ma attenti, che secondo me è che qui starebbe. Che è con capire? Non c'entra niente, spero. Teo! Bisogna vedi a chi che resta niente. Sono rosa e stato. O santi del paradiso. Ma, o santo, che è, o santo, vede, o saremo? Ma, ma voglio dirmi di che boccia che siamo di un po' dare. Del tuo, del nostro. Del mio. Del nostro. Del nostro. Quello è un fumo e di harina. No, no, no. Il fumo è del Gigi, che si è del Gigi. Ah, mi sento leggermente mai. Dai, potranno tutti. Vi cominciamo da capo, guarda. So, in stato. Stato chi? Si. Ma perché? Vedo me non siete ancora. Ma che non mi ha bisogno, eh. Sì. E adesso tengo solo da capo, pensare quando, che può essere successo. Ah, no, no. Me lo so. Come. Me sento mai. Me sento mai un po'. Come? Ma io ho voluto che ti ho dico, amico. Devo. E' il dottore! C'è me il dottore! Papà! Papà! A centunesima volta! Zacchete! A centunesima volta!